59 anni originario di Cremona, il generale di divisione Riccardo Rapanotti è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Arriva in Veneto dopo aver retto per oltre tre anni il comando regionale in Sicilia con l'obiettivo di portare i frutti della sua esperienza. Noi operiamo principalmente sulla base di piani operativi che vengono predisposti dal comando generale annualmente e in questo ambito un fattore importante è proprio questo dell'ablazione patrimoniale per cui l'indirizzo sarà sicuramente in una sorta di continuità su questa azione operativa e di comando. La cerimonia di avvicendamento si è svolta stamane a Palazzo Cornermo Cenigo a Venezia alla presenza delle istituzioni locali e del comandante interregionale dell'Italia Nord-Orientale, generale di corpo d'armata Carmine Lopez. Per Rapanotti è fondamentale proseguire un lavoro in sinergia con le parti come comune e regione anche per continuare a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose. È un fenomeno che si radica perché la tendenza criminale anche delle organizzazioni di stampo mafioso è quella del cosiddetto inabissamento. Inabissamento significa non dare una manifestazione violenta delle attività appunto illecite ma cercare di inserirsi sempre di più nel tessuto economico per controllarlo, per fare affari, per reinvestire i proventi. E quindi chiaramente non ci sono territori che siano totalmente indenni, immuni, anzi più i territori sono ricchi e più possono diventare appetibili. Un'economia drogata dalla delinquenza, dalle infiltrazioni malavitose, è un'economia che non è più libera, è un'economia che non permette più ai Veneti di poter progredire, creare e investire. E direi che questa è la vera sfida. La vera sfida del futuro sarà quella ovviamente di far fronte comune contro la criminalità organizzata che cerca quotidianamente di infiltrarsi nella nostra economia.